allora batteria saltata e schermo spicchiato si sono versi tutti i dati da solo c'è stata una specie di esplosione se sentire una specie di come se con la bomba per capodanno per cosa in più tutti i dati del mio telefonino sono scomparsi tutti tutte le fotografie tutto perso tutto tutte le foto che ho fatto da soli stavo cancellando una e se ne sono cancellate tutte questo è quello che serve alla tecnologia per rubare per fare questa è la tecnologia cosa vi serve per fare queste cose qua ancora mi rompono i coglioni con i cani ancora mi rompono i coglioni con la cacca dei cani ma se voi avete votato la mafia e la corruzione non mettono i cestini dove li devono mettere come spera e poi fanno le multe se uno non li usa come sperate di cambiare la vostra mafia babba perché qua le mafie esistono dappertutto dappertutto ci sono i poteri forti qua ci sono quelli più babbi quelli peggiori che fanno stare la gente così quindi che cazzo rompete i coglioni ancora sensibilizza mette il cartello coglioni andate a votare chi vi mette chi non vi mette i cestini ancora andate a votare chi non vi mette i cestini chi chi fa confusione chi parla di una cosa per un'altra e chi vuole questo vuole che state nella merda nello sporco nell'ignoranza e mezzo alle cose alla confusione alla non conoscenza non solo ignoranza non conoscenza alla confusione alle cose fatte da corruzione da ma ancora siete così mi hanno intanto levato tutti i dati e li hanno levato anche a zanucci ancora fate lavorare la gente senza contratto rompete i coglioni redditi di cittadinanza si devono dare non si devono dare ma se fanno lavorare la gente senza contratto per poi poterci fare quello che vogliono non gli sistemano i documenti non ci e alla fine dopo una serie di anni da lavoro il premio è a oa violenza sessuale oppure finisce a legnate finisce a cause finisce a coppa nella testa finisce a violenza questo è l'italia un pugno di corrotti e di mafiosi e di gente corrotta e mafiosa babba infatti la sicilia è sotto il succo proprio la palla di tutta di tutta la situazione italiana questo si è che cazzo vuoi il cartello cosa rompi i coglioni e cani cosa rompete i coglioni e cani se non mettete i cestini coglioni dove ci sono cani e persone e votate la gente che vi fa stare nella merda finta pure e nello sporco logica e nella corruzione nelle mafie l'altissima corruttività l'altissima corruttività e le mafie fanno questi giocano con la gente perché c'è altissima corruttività è un gioco di mafie di mafie di contro mafie di mafie di puliamo puliamo ripuliamo come le puliscono con cose ancora più sporche facendo impazzire la gente giocano con le persone c'è come è possibile che non c'è un cestino in un posto e che cosa dice alla gente cose dicono come è possibile non fanno i contratti alle persone ora ho incontrato uno che mi ha detto si deve levare il denaro in contanti così la gente è un uomo come ho buttato l'uomo come il criminale buttato l'uomo come il criminale allora io ti accicco una gran pedatona la vuoi la pedata? vai 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 non voglio dare pedate capito? ciao 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 uccina un boccano un necca così ti spengono con un con un bottone levate il contante così se ti vogliono zerare i conti o levare i soldi ammaccano un bottone fai girar tu mi fai girar come fossi una bombola per mangiare mangiare che non è che sono come a voi con lo stato che vi comanda modificati e alterati prima di tutto dallo stato che vi fa il lavaggio del cervello i vari stati sottosviluppati e inviluppati con cose malavitose con malavita e vertici malavitosi poi mi butti giù come fossi una tombola manipolazione mentale questo fanno